Ciao ragazzi, oggi video coupon per segnalare la pagina delle offerte aggiornata con i codici dei saldi estivi. So che alcuni preferiscono prendere dagli store europei e va bene così, ognuno compra dove vuole. Per chi invece vuole supportare il canale e si trova bene con Banggood, vi ricordo di usare il link che hai trovato in questa pagina in modo da confermare di aver usato i coupon che vi ho lasciato io. Chi ha seguito le ultime vicende sulla questione IVA avrà notato come i prezzi non sono competitivi come in passato, comunque grazie a questi coupon si riesce ad ottenere ancora un buon risparmio, quindi per chi volesse approfittare di questa lista vediamo come utilizzarli. I prodotti sono divisi per categoria, abbiamo Drone RTF, Occhiali FPV, Radio e Riceventi, Batterie e Caricatori, e così via. Una volta individuato quello che ci interessa, ad esempio l'Explorer LR4 che è un micro molto carino, copiamo il coupon facendo CTRL-C o tasto destro, poi apriamo il link. A questo punto facciamo aggiungere il carrello e procediamo col checkout. In questo box incolliamo il coupon che abbiamo copiato prima, quindi clicchiamo USA. Come vedete è stato applicato uno sconto di 26€ che ha portato il prezzo da 181€ a 154€. Perfetto, per oggi è tutto, vi ricordo anche di seguire il canale Telegram per non perdere le ultime offerte, e il gruppo FPV Italia per qualsiasi richiesta d'aiuto o consiglio. Ciao!